Siamo tutti signori, questa sera la presentazione della Vigo di Tala stagione 2020-2021. Siamo al Mamma Mia Bicci che ringraziamo per l'ospitalità e ringraziamo tutti i ragazzi, lo staff tecnico e la dirigenza che quest'oggi sono presenti in questo momento. Come vi dicevo, stagione 2020-2021, un nuovo progetto, tante ambizioni, tanta voglia di fare. Dobbiamo noi decidere quanto e come fare. L'unico obiettivo societario che ho sempre condiviso con tutti voi è quello di giocare ogni partita come fosse l'ultima, ogni partita come fosse l'unica e se tu ogni partita la giochi in questo modo, di certo a fine campionato ti do una linea e hai dato il meglio di te. Se tu vivi questo obiettivo dentro di te, questo è l'obiettivo della società. Siete pronti tutti quanti a sposare questo obiettivo? Ok, detto questo tutto il resto sarà una formalità. Ok, diciamo che la stagione 2020-2021 è cominciata, dobbiamo mettere il massimo dell'intensità e vedremo quali sono i progetti. E ci siamo, ci siamo ragazzi. Vestire quei colori, indossare quella maglia, vivere tutta la magia che c'è. Non è un indumento ma la materializzazione di un obiettivo, di un sogno. Nuovi kit gara e presenteremo le due maglie dei portieri. Seconda maglia, manteniamo il colore verde, che è il nostro colore sociale presente nel nostro logo insieme al bianco e al blu nelle sue declinazioni. Ovviamente sarà una maglia che ha abbandonato il rosso e quindi avremo questa nuova maglia con un nuovo pantaloncino e con i calzettoni verdi. Questa è la nuova maglietta della Vigor Italia. Molto bella, tricolori in questo caso specifico, quindi abbiamo voluto dare anche stilisticamente una ripodernata. Dopo una grandissima impresa ci vuole ancora più grinta, più carattere e più cuore per rivedersi e migliorarsi. Andiamo ancora avanti Danilo con la tua gentile cortesia, il primo Simone Savoca e quindi andiamo su Alessandro Larosa. È un under, una persona straordinaria. Un applauso ad Alessandro su via ragazzi. E allora Danilo Munafon, anche lui con Tumacia, persona dalla comprovata esperienza. Con Giuseppe Diciccio, altro ragazzo diciamo 18enne freschissimo. Quest'oggi è Giovanni Santorno a Teregoba, al quale facciamo un applauso. Lui è stato nostro avversario e diciamo il suo valore è arrivato agli occhi di chi voleva poi impostare la campagna acquiste. E parliamo del vice capitano. Avanti il vice capitano è Salvatore Marzo. Un applauso, tutti a Salvatore Marzo. E qui voglio dire, uuuuh, c'è la nomina del nuovo capitano e a questo punto noi lo annunciamo. Signore e signori, solo per voi. Plino, bagnato, un applauso. Vi ricordo che Pasqualino è stato il più votato con una percentuale del 73% di ombra. Andiamo avanti con la slide e parliamo di quella che è la nuova riorganizzazione societaria. Abbiamo presidente, presidente onorario, quindi presidente Fabio Foti, presidente onorario Jimmy Foti. È una novità assoluta, qualcosa che è stato fino a questo momento allo stato latente, adesso si conferma. Praticamente direttore sportivo ad Interim, Simone Mattina, che è pure il nostro. Applauso, perché il nostro Antonio Falliti, il nostro Antonio Falliti, direttore sportivo. Un direttore, un direttore, un direttore. Una nuova carica, social media marketing, responsabile alla comunicazione. Pier Maria Parisi, vieni qua caro, ti puoi avvicinare. Allora, ovviamente da quest'anno avremo qualcuno che si occupa ufficialmente del canale in media. Abbiamo uno stato tecnico al momento, composto da due persone, che sono il nostro allenatore mister Simone Mattina, al poi le facciamo un grande applauso. E in contumacia, sapete cosa vuol dire contumacia? No, assolutamente no. Contumacia vuol dire di un processo, quando io ti processo senza che tu ci sei. Quindi in questo caso noi stiamo parlando del nostro preparatore atletico Giacomo Veneziano, che adesso è una sfida ancora più avvincente, un progetto ancora più ambizioso. Un sogno da vivere, tutti insieme. È proprio un sogno. Cioè qualcosa che tu immagini, ma molte volte non hai il coraggio di voler credere come possibile nella tua realtà. Io vi dico, noi dobbiamo avere la forza di visualizzare l'obiettivo, ok? Cose importanti, cose che non vogliamo dire in maniera ufficiale, però dentro di noi conosciamo il nostro valore e sappiamo dove possiamo arrivare. Uno di voi è dentro un progetto e c'è dentro con i pregi e con i difetti. E voi se ci siete, ci siete per come siete, non solo per i vostri pregi. I vostri difetti hanno importanza. Voi avete caratteristiche. Io voglio che ciascuno di voi metta ogni fibra del proprio essere in quel momento di partita, in quella fase di allenamento e raggiungere e prendere insieme un obiettivo. Perché se ci credo solo io, sono ovviamente un illuso. Se ci crediamo tutti, noi questo sogno lo prendiamo e ce lo mangiamo. Forza Vigor! Ehi! Ehi!